Prima di iniziare, ricordati di iscriverti al canale e lasciare un mi piace. È un periodo veramente doloroso, privatamente. È pesante. Capitemi se ogni tanto pubblico meno, se sono più in down. Tiara Ferragni, l'influencer di fama internazionale, si trova al centro dell'attenzione per una serie di eventi che stanno scuotendo la sua vita personale e professionale. Dalle controversie legali all'indagine per truffa alla separazione dal marito Fedez, la sua vita è diventata oggetto di speculazione e discussione. In questo video, esamineremo da vicino le ultime notizie su Chiara Ferragni, focalizzandoci sul suo stato emotivo, sulle implicazioni della sua situazione sulla sua immagine pubblica e sulle strategie che potrebbe adottare per affrontare questa fase difficile. Chiara Ferragni è descritta come una persona chiusa e provata dalla situazione attuale. Secondo quanto riportato da Libero, un quotidiano italiano, l'influencer sta attraversando una crisi sia sentimentale che professionale. La sua storia personale si è intrecciata con l'inchiesta per truffa e la separazione da Fedez, portando ad un momento di grande difficoltà. Alessandro Rossica, noto come l'investigatore social, ha svelato che Chiara Ferragni sta affrontando la situazione con l'aiuto di uno psicologo, cercando di superare questa fase complicata. La perdita di seguaci sui social media e il calo del valore dei suoi post pubblicitari evidenziano l'impatto negativo che questi eventi stanno avendo sulla sua carriera e sulla sua immagine pubblica. Le ripercussioni sul valore dei post pubblicitari di Chiara Ferragni La situazione personale di Chiara Ferragni ha avuto un impatto diretto sul suo lavoro di influencer. Secondo uno studio condotto da Opera HQ, il valore dei suoi post pubblicitari è diminuito, nonostante rimanga alto, a causa della minore frequenza di pubblicazioni. Questo calo del valore dei post pubblicitari riflette l'instabilità della situazione personale di Chiara Ferragni e i suoi effetti sul mercato delle sponsorizzazioni. La crisi sentimentale che sta affrontando ha complicato ulteriormente il suo percorso di recupero, rendendo necessaria una revisione delle strategie di comunicazione e di branding. Chiara Ferragni tra inchiesta e separazione da Fedez Chiara Ferragni, la prima influencer riconosciuta per la sua fama internazionale, si trova al centro dell'attenzione per una serie di eventi che stanno facendo parlare di sé. Dalla questione Balocco, alla separazione dal marito Fedez, la sua vita è diventata oggetto di speculazione e discussione. Focalizziamoci sul suo stato emotivo, sulle implicazioni della sua situazione sulla sua immagine pubblica e sulle strategie che potrebbe adottare per affrontare questa fase difficile. La crisi di Chiara Ferragni Uno sguardo approfondito Chiara Ferragni è descritta come una persona chiusa e provata dalla situazione attuale. Secondo quanto riportato da Libero, un quotidiano italiano, l'influencer sta attraversando una crisi sia sentimentale che professionale. La sua storia personale si è intrecciata con l'inchiesta per truffa e la separazione da Fedez, portando ad un momento di grande difficoltà. Alessandro Rossica, noto come l'investigatore social, ha svelato che Chiara Ferragni sta affrontando la situazione con l'aiuto di uno psicologo, cercando di superare questa fase complicata. La perdita di seguaci sui social media e il calo del valore dei suoi post pubblicitari evidenziano l'impatto negativo che questi eventi stanno avendo sulla sua carriera e sulla sua immagine pubblica. Le ripercussioni sul valore dei post pubblicitari di Chiara Ferragni La situazione personale di Chiara Ferragni ha avuto un impatto diretto sul suo lavoro di influencer. Secondo uno studio condotto da Opera HQ, il valore dei suoi post pubblicitari è diminuito, nonostante rimanga alto, a causa della minore frequenza di pubblicazioni. Questo calo del valore dei post pubblicitari riflette l'instabilità della situazione personale di Chiara Ferragni e i suoi effetti sul mercato delle sponsorizzazioni. La crisi sentimentale che sta affrontando ha complicato ulteriormente il suo percorso di recupero, rendendo necessaria una revisione delle strategie di comunicazione e di branding. La nuova strategia di comunicazione di Chiara Ferragni Di fronte alle sfide attuali, Chiara Ferragni sta adottando una nuova strategia di comunicazione sui social media. Optando per un profilo più familiare e autentico, sta condividendo momenti intimi della sua vita, dai viaggi in giro per il mondo ai momenti trascorsi con i suoi figli. Tuttavia, la sua presenza online sembra essere diminuita, e il suo silenzio potrebbe essere interpretato come un segnale della sofferenza e della solitudine che sta vivendo. Questa nuova strategia potrebbe essere un tentativo di riconnettersi con il suo pubblico in un momento di vulnerabilità e incertezza. Conclusioni Affrontare la crisi e guardare al futuro In conclusione, Chiara Ferragni si trova in una fase difficile della sua vita, segnata da controversie legali e problemi personali. Tuttavia, la sua determinazione nel superare questa crisi e nel riaffermare la sua presenza sui social media dimostra la sua resilienza e la sua capacità di adattamento. Guardando al futuro, sarà fondamentale per Chiara Ferragni mantenere un equilibrio tra la sua vita personale e professionale, continuando a costruire il suo marchio e a mantenere il sostegno del suo pubblico. Grazie. Grazie.